Raduno di Ferrari per beneficenza è la nobile iniziativa messa in campo dalla Scuderia Appia Antica di Roma che ha deciso di devolvere il ricavato del pranzo alla casa famiglia Gregorio Antonelli. La sede è andata nel 1993, vedendo l'enorme successo che hanno queste macchine quando arriviamo in una piazza abbiamo pensato di fare questi raduni a scopo benefico, quindi noi ogni uscita ci deve essere la solidarietà. Qui siamo stati invitati dalla Jonathan Immobiliare, il quale ha organizzato questa manifestazione e il ricavato della raccolta che noi soci e altre persone contribuiscono saranno dotati a un orfanatrofio qui di Terracina. Ha visto anche la presenza di Little Tony? Sì, Little Tony è un socio fondatore, io Little Tony, l'avvocato Scozzarella e un altro dottore Ivo Pulcini abbiamo costituito questo club nel 1993, quindi abbiamo sia la Ferrari anni 60 che le Ferrari moderne a 2012. Quella più antica? Più antica ce n'è una Tony, c'è un California, lui ne ha avute tante di California, però ultimamente ha ricomprato un California del 62. Circa 18 Ferrari sono rimaste in bella mostra per diverse ore in Piazza della Repubblica, suscitando la curiosità di grandi e piccini. Questo è il secondo anno già che facciamo questa manifestazione con delle Ferrari. È nato tutto all'inizio dall'Osteria del Vicoletto e ci siamo uniti con Jonathan Immobiliare anche quest'anno per fare un altro evento per questi bambini. Abbiamo anche come ospite speciale Little Tony che raccoglierà i soldi di questa manifestazione che verranno devoluti alla casa famiglie Gregorio Antonelli. Quante Ferrari ci sono qui? Sono circa 18 Ferrari di vari modelli, abbiamo anche una Enzo Ferrari che è molto rara vederla in giro e abbiamo modelli più vecchi e modelli più nuovi. Grazie a tutti.